Signori, si riparte dopo due settimane praticamente, si riparte con il primo big match dell'anno, mamma mia, mamma mia, a Bergamo poi tra le altre cose, mamma mia. Prima di iniziare ragazzi vi volevo ringraziare perché sul secondo canale abbiamo superato i 2000 iscritti, vi ringrazio comunque in generale perché so che anche tanti di voi che mi seguono qui mi seguono anche di là. Ma come vi ho sempre detto, ormai non ve lo ripeto più, ma ve l'ho sempre detto soprattutto agli inizi che il secondo canale ragazzi rimane comunque un canale salvagente perché non si sa mai nella vita. Io sono sempre stato uno che ha cercato tanta prevenzione nella vita e quindi anche in questo caso non si sa mai, lo trovate sempre in descrizione, tante le volte un giorno questo canale dovesse sparire, tot, motivi, non si sa mai. Ragazzi, allora, incomincia appunto, si rinizia dopo la sosta delle nazionali, particolare la situazione perché per chi appunto non lo sa, Gudmundson ragazzi non è tra i titolari, cioè scusate non è tra i convocati magari tra i titolari, almeno sarebbe partito dalla panchina. Non è tra i convocati, perché per chi non lo sapesse è tornato dall'Islanda venerdì, ieri, Palladino non lo avrà a disposizione per motivi insomma, ma comunque penso che a questo punto lo vedremo nella prossima e se non sbaglio sarà la Lazio a disposizione magari del mister. Diciamo che la squadra, e comunque anche Palladino, dalle promesse, tra virgolette promesse che aveva fatto insomma alla piazza di due settimane fa, spererei di vedere una Fiorentina decisamente diversa, anzi va vista ragazzi una Fiorentina decisamente diversa in questa partita perché l'Atalanta nonostante sia una squadra che non è partita benissimo, ha trovato praticamente solo Big nel suo percorso, però non è partita benissimo. Diciamo ha trovato un super Torino che per il momento è una delle sorprese del campionato, un Inter che gli è passata sopra la versione Schiacciasassi e poi la prima partita contro il Lecce dove in realtà erano partiti in tromba con Brescianini e Reteghi. Tra l'altro domani segnatevelo, Reteghi gol proprio scontatissimo, 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 non è per tirarla ma scontatissimo, domani il gol di Reteghi veramente scontato. Non tutti i nostri discorsi, no ma Reteghi e gente non lo voleva, no è perché è sempre stato in orbita Fiorentina nel calcio mercato, quindi figuratevi se non segna i Brescianini uguale o uno o l'altro. Però, a parte ste cose ragazzi, il mister in questo momento sta provando delle soluzioni alternative. Visto che alla fine tanti giocatori sono arrivati all'ultimo secondo, il mister Palladino ha avuto a disposizione poca gente per poter provare la squadra. Adesso che ha a disposizione tutta la rosa alla fine completa, a parte appunto Gudmundson, sta cercando delle alternative, non solo sui giocatori in campo ma anche sul modulo. Perché la difesa 3, per chi lo vuole sapere, perlomeno almeno di stravolgimenti incredibili dell'ultimo secondo, dovrebbe rimanere anche nella partita contro l'Atalanta. Però, a differenza delle altre partite dove, diciamo, il centrocampo aveva solo due elementi e si cercava i due tre quarti, diciamo, con la punta, quella che potrebbe scendere in campo contro l'Atalanta potrebbe essere una formazione da 3-5-2, versione Montella, per capirsi, con la seconda punta e la prima punta. È una soluzione che si può tranquillamente adottare, perché effettivamente li hai i giocatori per poterlo fare, chiaramente devi, se tante le volte dovesse funzionare una soluzione del genere, sono sicuro comunque al mille per mille che non sarebbe una soluzione definitiva per tutto l'anno o la soluzione principale. Perché gli interpreti ce li hai, ma alla lunga, visto che hai così tanti trequartisti e così pochi centrocampisti per poter adottare una soluzione del genere, non gioverebbe, diciamo, proprio alla salute, tra virgolette, della squadra. Perché tanti giocatori rimarrebbero fuori, perché appunto hai una miriade, come vi ho detto, di gente che gioca tra attacco, seconde punte e tre quarti, che in questo momento avrebbe uno slot, ovvero la seconda punta, barra due, per gente come Beltran e Kwame, per dire, tutti gli altri praticamente rimarrebbero fuori. Il centrocampo passerebbe da due centrocampisti del 3-4-2-1 a tre centrocampisti del 3-5-2, perché verrebbe fuori la classica V di centrocampo, non so se avete presente la formazione, i tre della difesa, la V del centrocampo con il mediano davanti alla difesa, le due mezzali e i due esterni di centrocampo. O comunque, insomma, terzini esterni, insomma, poi dipende da chi ci gioca, perché alla fine, se da una parte, io penso che comunque giocheranno lo stesso Dodò o Gosens, tante volte in partita in corso dovessero essere sostituiti da, non lo so, che ne so, da Sottil e da Iconet, per esempio, quelle due, quei due esterni di centrocampo diventerebbero, si trasformerebbero molto più offensivi, quindi per magari cercare, che ne so, in un eventuale momento di partita in cui siamo sotto, di cercare di recuperare, quindi è una formazione che a me piace, perché comunque a Firenze si è vista per tanti anni, ce li hai gli interpreti per poterla fare, io spero che Palladino, comunque, io sono sicuro che ci avrà lavorato in queste due settimane, perché alla fine ha levato qualche nazionale, ce l'ha avuto tutti a disposizione, in difesa da quello che so, perlomeno, dovrebbero giocare titolari Biraghi come Braccetto, Ranieri e Quarta, quindi particolare, perché Biraghi e Braccetto continuiamo a vederlo, nonostante, non è che non mi faccia impazzire, nonostante io non lo voglia vedere, perché non è il suo ruolo naturale, per ovvi motivi, in difesa, Biraghi non ci deve stare, contro l'Atalanta a Bergamo, c'è capito che mi fa un pochino, vi ripeto, io spero che Palladino se la sia studiata molto bene, anche perché comunque gli allenatori queste scelte fatte così non le fanno a caso, poi speriamo che giovi, insomma, una scelta del genere, nel caso appunto dovesse rimanere quella, anche domani, prima dell'inizio della partita, ovviamente ragazzi, se vi va, fatemi un pronostico sotto nei momenti, io la vedo comunque una classe Atalanta-Fiorentina, o Fiorentina-Atalanta, insomma, quello che volete, una classe da partita da over, dove le difese appunto verranno surclassate, dalla, diciamo, la miriade di folate offensive di entrambe le squadre, spero che comunque di portarmi a casa almeno un pareggio, ragazzi, cioè andare a Bergamo e portarsi a casa un pareggio, oggi è vero che serve la vittoria, perché alla fine te in tre partite hai fatto tre punti, è una media da retrocessione, quasi, insomma, quindi contro Monza e Venezia potevi fare nettamente di più, e si è sempre detto contro il Parma, ti è andata bene a sto giro, andare a Bergamo e portarsi a casa un risultato, anche che fosse un punto, a me mi andrebbe benissimo, chiaramente io dovessi anche perdere, metto le, alzo le mani, metto le mani avanti, dovessi anche perdere, io quello che voglio vedere è la differenza, la differenza che c'era tra questa partita che andremo a vedere e quelle che hai appena giocato, io posso anche perdere, perché è l'Atalanta-Bergamo, con l'Atalanta-Bergamo ci possono, ci perdono tutti praticamente, cioè nel senso difficile che qualcuno faccia il risultato, soprattutto quando è un'Atalanta in palla, però voglio vedere la differenza di squadra, non tanto dettata dalla Rosa, non tanto dettata da qualche idea tecnica, ma proprio anche la voglia, il vedere che l'allenatore e la squadra hanno lavorato nelle due settimane di pausa, voglio vedere questo, per vedere un cambio di tendenza, perché hai bisogno di un cambio di tendenza ora, da ora in avanti, perché oltre all'Atalanta, poi c'è la Lazio, poi dopo un po', dopo l'Empoli se non sbaglio, c'è il Milan, nel mezzo ti inizia anche la Conference, quindi hai bisogno per forza di un cambio di tendenza, perché a perdere tutte le è un attimo, quindi io ho voglia di vedere questo domani, spero vivamente di vedere questo, a prescindere dal risultato, poi se tante volte si porta a casa un risultato positivo, ben venga, perché quello insomma si spera a tutti. Speriamo bene ragazzi, fatemi sapere i vostri sottolinei momenti, sempre Forza Viola, il resto della squadra io penso sarà più o meno il solito, l'unica cosa che da quello che ho capito, da quello che trapela, è che Colpani non dovrebbe partire da titolare, ma dovrebbe partire con E facilmente capibile, ve lo dissi anche quando finì la partita di Monza, cioè non è che sono un indovino, ma basta vedere le prestazioni in campo di Colpani che ancora, non lo so, c'ha bisogno di tempo. Abbiamo dato tempo ragazzi veramente a tutti, possiamo darla anche a Colpani, non c'è problema. Sempre Forza Viola ragazzi, ci si vede domani nel post partita della partita. Bello, 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 ragazzi.